Ma che anello di fidanzamento? Quello che Elisabetta aveva al dito era un portatovagliolo. Lo afferma il portavoce di George Clooney dopo la pubblicazione sul sito americano TMZ di un'immagine che ritrae la fidanzata di George con un vistoso gioiello al dito. La fotografia ha fatto il giro del mondo e ha immediatamente rinfocolato le voci di un possibile imminente matrimonio fra la superstar di Hollywood e la showgirl italiana.